Musica Confesercenti cresce, nuove attività, servizi e iniziative per il territorio. La Pasqua è alle porte, l'estate si avvicina e l'associazione della provincia di Pesaro Urbino si mette in moto, anche con bandi sulla ristorazione. Gli imprenditori si preparano con il giusto cambio tra domanda e offerta, nonostante il momento storico ricco di criticità. I risultati di Confesercenti sono soddisfacenti, sono stati ottenuti obiettivi ai quali si è lavorato per anni. È un gioco di squadra, professionalità in sinergia, tra modernità ed efficienza, senza che ci siano distanze tra gli operatori, ma anche tra istituzioni e aziende. Il focus è su Pesaro, capitale della cultura, ma tutta la provincia è interessata dagli eventi in cantiere. Crescita e riorganizzazione a livello sindacale per l'associazione, da sempre vicina alle imprese, in salute e pronta alle prossime sfide. Si punta in alto, in una sola parola, rinnovamento. Direttore, quali le nuove attività e i servizi di Confesercenti Pesaro Urbino? Ne abbiamo in programma tantissimi. La prima vorrei accennare alla costituzione, all'imminente inaugurazione della nostra nuova sede di Gabiccemare. È una sede che abbiamo voluto molto più accogliente, molto più intelligente, molto più, oh sì, c'è Smart oggi, proprio per raccogliere meglio e mettere dentro tutti quei nuovi servizi che in questo momento, nella vecchia sede, non possiamo mettere. Nuovi servizi ne abbiamo tanti, molto legati anche ai social, molto legati al mondo del lavoro, molto legati un po' a tutto il contorno dei servizi classici, quindi non solo. Paghe e contabilità, che ovviamente rimangono nostro core business, oltre alla parte sindacale, che per noi è fondamentale, stiamo cercando di mettere a punto tutto quello che i commercianti oggi ci chiedono. Uno per tutti, l'incrocio tra domanda e offerta del mondo del lavoro, cercando di facilitare sia il nostro associato, ma anche chi vuole candidarsi per un posto di lavoro che è serio, nonostante quello che si dica ben retribuito, sempre in regola e sempre con tutti i crismi. Ci siamo già ormai soffermati diverse volte su quello che riguarda il nuovo servizio che abbiamo messo dei bandi, per le gialaterie, gli alberghi, quindi investimenti, ma anche assunzioni per esempio, quindi assunzioni di personale anche per gli albergatori. Il social che viene curato per l'associato, quindi non più solo quello che fa il nostro ufficio stampa, che cura i nostri social, è evidente, il nostro sito internet, ma proprio istituiremo a brevissimo anche un servizio per fare in modo che tutte le pagine web, piuttosto che i social dei nostri associati, vengano curati e seguiti puntualmente da persone appositamente formate e molti in gamba. Tutta la squadra che con me lavora incessantemente proprio per riuscire a incastrare tutte queste cose cercando di ottimizzare tutto il nostro lavoro, ma anche il lavoro dei nostri associati. È un'impresa, perché è veramente un'impresa, ci vuole tanto lavoro, molte volte tanta fantasia anche, però direi che i risultati si vedono, sono molto soddisfacenti per quello che riguarda me, ma gli associati ci stanno dando ragione, per cui continueremo così e faremo tanta strada sotto questo profilo. Confese Arcenti ovviamente cerca di implementare tutte le attività che sono di Pesaro Capitale della Cultura, che è un avvenimento che ha una potenzialità di lavoro, di crescita per molti anni a venire. In questo caso anche Confese Arcenti vuole fare il suo, ovviamente. Avremo molto presto un avvenimento di portata nazionale, con tanti ospiti anche a livello nazionale, sia nostri ma non solo nostri, quindi non solo colleghi o dirigenti nostri nazionali. E poi anche su Pesaro stiamo cominciando a rifare un po' il punto della situazione, perché noi fino ad oggi abbiamo avuto, diciamolo, perché poi è palese, è visibile, abbiamo avuto in questo anno e mezzo Fano come laboratorio di idee, quindi abbiamo cercato di sviluppare tanti piccoli avvenimenti e grandi avvenimenti. Vediamo il Brodetto, per esempio, il Brodetto Fest, che è il nostro fiore all'occhiello, ormai è diventato un evento di carattere internazionale, però anche Pesaro adesso ha bisogno della nostra attenzione, quindi cominciamo a lavorarci, ho una squadra di livello che insieme a me collabora per fare questo tipo di manifestazioni, per fare ancora più attività sindacale, per essere sempre più vicini all'associato, otteniamo risultati, qualche volta, spiace dirlo, dopo qualche anno, però i risultati poi sono eclatanti, sono cose che fanno bene e che l'associato poi alla fine vede. Quindi l'imprenditore che è con noi è invogliato ancora di più a partecipare alle nostre attività, quindi alle attività sindacali. Devo dire che quando sono arrivato, ormai un paio d'anni fa, l'imprenditore era un po' scollegato anche dall'associazione, ma ragazzi al lavoro, non tanto mio, ma della mia squadra, veramente ho notato un riavvicinamento dell'associato, e ti dirò anche qualcuno non associato, alle nostre attività e si sta dimorando di noi, e questo è molto bello, fa bene al cuore. Davide Ipaso, uno dei tanti grandi risultati di Confesercenti Pesaro Urbino è il mercato San Decenzio, sul quale avete lavorato per anni. Abbiamo lavorato allacremente, con difficoltà giornaliere, anche perché spiegare all'ambulante da domani ti sposto, dicendogli ti sposto in un luogo migliore, ma lui sa già che sta perdendo un posto dove sta bene, è difficile. La cosa bella, martedì scorso noi abbiamo avuto ottimi risultati, un ambulante verso le 11.30 ci ha fermato e ci ha detto ho finito tutto, e questo per noi è un risultato eclatante. Stamattina alle 7.30 eravamo di nuovo lì al mercato, perché ci sono sì le ordinanze, ma non vengono fatte rispettare, quindi praticamente è carta straccia, la gente è maleducata, e si è avuto un attimino di difficoltà tra ambulanti e clienti. Sono cose che devono essere smussate, smussate sia nel parcheggio piccolino, quello che c'è prospicente l'area della frutta e verdura, sia nel parcheggio di fianco al cimitero, che noi chiederemo le due ore di discorario, perché così diamo l'opportunità alle macchine di potersi andare, cioè la giusta movimentazione delle auto, anche perché ci sono parecchi camper parcheggiati, si ne dì e lì dentro sono posti che vengono tolti al mercato stesso. Ci sono altre anticipazioni nel Pesarese? Beh, di cosa bolla in pentola? Onestamente di tanta roba. Entreremo a piedi pari sulle manifestazioni sportive, non dico quali sono, perché siamo in dirittura d'arrivo nella definizione, due, di cui una molto grande a livello internazionale, abbiamo la manifestazione di cui parlava il direttore prima, che è quella che avremo l'11 e 12 di maggio, a carattere nazionale, e do soltanto un'anticipazione, sarà una cosa culinaria, quindi basata sull'enogastronomia, diciamo sulla tradizione italiana, perché crediamo che l'enogastronomia sia il core business, il cordone che serve per attrarre quella parte turistica necessaria, perché onestamente nel nostro territorio si mangia molto bene, quindi molti vengono per assaporare le nostre prelibatezze. Faccio parte della commissione D'Eco, ho finito le tagliatelle di Novi Lara, già sono due in procinto di essere D'Eco, quindi vedo che c'è una giusta propulsione dalla parte della base per far spiegare come siamo noi pesaresi e che tradizione abbiamo. È un momento difficile e complicato per le imprese? È un momento tragico per le imprese. Soltanto ieri una persona mi ha fermato, mi ha detto guarda mi è arrivata la bolletta del gas, sono 1.400 euro. i tassi bancari sono altissimi, 30-40% in più il mutuo da pagare, gli stipendi sono quelli del 1990, quindi di 30 anni fa, di gente con basso potere d'acquisto ce n'è tanta in giro. E voi sapete che quando non gira ricchezza, non gira denaro, non crea ricchezza ma crea povertà. Ci sono famiglie in grosse difficoltà, cerchiamo di aiutarle, perché l'associazione non è soltanto pro commercianti, ma c'è tanta gente che viene qui e ci chiede una mano. Però io ho sempre detto che quando nel portafoglio mancano i soldi, ci sia in bocca alle mani che si trova una soluzione. e che ci sia in bocca alle mani che si trova una soluzione.